Dai, facciamo il casino finale, vuoi? Provami così! Dalla mia, non è RTS, non ci guarda niente! Vai in fede, tu che puoi! Stupi! Così! Ricky Battini con son! Pasqua Rossi! Sono lui! Eh, sono andate così carini e generosi che hanno fatturato tutti i cancer che avevano! Lavorite o no? Eeeeeee! Si devono scaldare fino a casa, dai! Oh bella questa! Buona ragazzi, allora! La notte prosegue, tra poco ve lo dico! Perché me l'ha confermato il grande Diego! A cui fai un grande applauso e d'altro critico Diego! Che è sempre tu dietro a coordinare tutto! E tra pochissimi minuti qui ci sarà Noemi! E cantare ovviamente anche la canzone che tutti conosceranno di Blasco! Ma ancora un libro che vuole essere a discoteca! Per un minuto! E poi vi lasciamo! Ricky Battini, are you ready to go? Ok? Come on! Tutti su! 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 Altro che in pizza! Altro che in pizza! Guarda qui! E' una casa che grazie! Mi sento Patrice going the world! Ragazzi, grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a Ricky Battini che ha mixato per noi! Grazie a Francesca! A Giorgia! E a Federica! E adesso vi saluto a Blasco! Lo fate voi con il caro che tutti conosciamo! Di più! Questa è la capitale per Blasco! Grazie! Noemi, tra poco! Ciao da Cato Corrini e dalla DRDS!